Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Rainbow Six Siege signori Questo qua dovrebbe essere o il secondo video della giornata se non il primo della giornata però Eeeh vabbè raga non lo so non lo so devo vedere Vorrei farlo uscire come secondo video della giornata però non so se ci riesco Ma se ci riesco raga mi raccomando lasciate un doppio like a sto punto Vi create un altro account e lo fate Semplice no? Allora qua lo chiudo Perché mi piace Poi qua dovrebbero mettere Eeeh vabbè scialla Chiudo qua E mi metto di qua Anzi no Mi metto di qua raga Se spaccano qualcosa mi devo sentire Ci sento degli spari Bello Non ci credo raga ma io lo sparo ma che cacchio Ya ma che sfiga E' entrato solo un colpo di tutti quelli che ho dato Ma siamo seri raga io l'ho colpito Un colpo in testa mi hai dato raga ma ma che gioco Ma che cacchio raga io non lo so io faccio le cose in grande E loro mi uccido così poco così Cioè lasciarlo lasciarlo Cioè ma siamo seri raga Cioè io ho fatto una cosa grandissima raga di mettermi là e prenderlo Non ci riesco Io mi incazzo quando succedono ste cose Boh Quell'altro ha fatto una tripla Vabbè Cioè questo qua raga questo qua doveva morire Cioè che culo che non è morto Come quest'altro che stava a fa ma io non lo so Pure la squadra ma ci si mette raga Prima ho fatto la partita andata malissima ed era noiosa L'ho pure portata sul canale Ragazzi mi sono dimenticato di dirvi che comunque è una partita classificata Lo sono proprio dimenticato Allora Io Vorrei andare Allora Andiamo da sotto Ho fiuzze raga Ok 5-4 Dove stanno loro Raga ma non abbiamo indirizzato la bomba Ma com'è Ah ecco qua Ok là sopra Aia Ma dove 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 Mamma mia C'è due nemici all'esterno Così a caso A caso Ma Mannaccia la miseria che ho ricaricato raga Se non ricaricavo Stiamo giocando malissimo raga Ci hanno preso proprio di sorpresa eh Cioè ma non mi sono stati veramente furbi raga Proprio così a caso Io che volevo usare fiuzze al meglio Cioè che ricarico poi subito Non lo sapevo raga che stava un altro Ma il bello è che non ho sentito niente Non ho sentito niente Ma poi dove è passato Dove è andato Dove vai Ecco il paese L'ha fatto apposto Quasi qualcosa Ok raga spacco qua sotto Perché Così posso vedere nemici Comunque devo far vedere la nuova mappa raga Che Grattacilo Dei giapponesi Che è troppo bella L'ho fatta Cinque o sei volte raga da oggi Ed è veramente troppo bella Purtroppo non ho avuto l'opportunità di registrare Ma dai ma perché prendono il contenitore Madonna raga ma sono scarsi i miei compagni Ovviamente Ma ovviamente raga Ma sono scarsissimi i miei compagni Guardate qua che culo Come cacchio sono entrato No vabbè raga C'è come perdere le partite grazie ai compagni di squadra Grande io non Io faccio secondo me le cose giuste Cioè Io mi tengo in disparte Faccio prima raga Ma dove stanno sparando? Mannaggia l'ho visto L'ho visto pure raga Boom ma vai a quel paese Raga questo non lo vedo Io scappo Non lo vedo raga C'ho paura di morire Allora dove possiamo andare? Bravi Sennò poi danno 3 a 0 Però Se ce la giochiamo bene Possiamo anche recuperare Bello raga Qua si vede un po' tutto Ok 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 grande così raga Una kill l'ho fatta So contento di quello che ho fatto E basta Questo qua è un nemico Ah no 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 L'hanno ucciso Perfetto Raga questo operatore lo voglio tantissimo Questo operatore lo voglio tantissimo Vedete come stava qua Ok grande così raga Ok grande così raga Dai se vinciamo No cioè dobbiamo vincere raga Dobbiamo vincere ora tutte le partite Assolutamente Usiamo dock va Non lo uso da un po' di tempo Però ci sta raga Perfetto E basta Mamma mia schicosi Che vuote ne è i 4 contro 5 Siete proprio fortissimi eh Vabbè raga Pure io non so Sono un po' scarso Però dai ho appena iniziato Dai che i nemici Possono stare dappertutto Non riesco a pia la testa Madora raga Mamma mia Ma ho controllato Ho levato la te Ho levato la mira Da quella posizione E ovviamente Deve arrivare In testa Grande E prendilo da dietro Mamma mia Dai E stava lì Dai uno contro uno Uno sta col coso Ma vedo se te lo riesco a individuare Ma non penso Nasconditi Oh raga Al posto su Mi nasconderei Non guardare Da nessuna parte Guarda solo qua Perché Non fa come me Che mi giro Da Però se Per guardare Poi mi giro di nuovo Sta qui Mamma mia Ma sei fortissimo Grande così Grande così Grande così Grande prova Bravissimo Raga lo odio troppo Lo odio troppo lo scudo Perché io mi metto Non uso mai le bombe Mai Allora Allora Che cosa usiamo Ora Ok vai così raga Partiamo da qua No da qua Allora ragazzi Non sono stati trovati ancora Ok ma stanno qui Perfetto Sono nel garage Ok Ai minchia Ma mi sparano a me Allora Io farei così Dato che con il drone Ho controllato un po' Tutte le zone Andare da sopra Scasso sopra E ci vado raga Questo è morto Scommetto Mi trovo Solo io Purtroppo Tutti quanti sono morti Ovviamente Sta all'esterno Ci sono due nemici all'esterno Raga Devo pensare bene Perché purtroppo I miei compagni No Sono proprio scarsi Ok Eh ma faccia mia Come fa Come faccio Me lo dici Non lo trovo neanche Stava giù Mannaggia raga Uffa Però le ho fatte Le 5 kg Mannaggia la miseria Cioè i miei compagni Raga I miei compagni Cioè sono andati subito Le sono morti Ma è normale Ma boh raga Io a mio parere Ho giocato bene Ovviamente c'è sempre Qualche imperfezione Che devo migliorare Ma ho appena cominciato Ho fatto due assist Quei due assist Si potevano trasformare Anche in kill Però vabbè Purtroppo è andata così Ragazzi se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Condividete Iscrivetevi Per restare sempre Nel prossimo video Noi ci sentiamo Al prossimo video Bella Ciao ciao